Promosso e finanziato da Corecom Abruzzo e realizzato dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo in partenariato con l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, l'Università degli Studi d'Annunzio di Chieti Pescara e l'Università degli Studi di Teramo, nasce un corso di formazione rivolto ai docenti delle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado. Parliamo di un progetto molto importante che riguarda il mondo della scuola e di ogni ordine e grado. andiamo a formare per la prima volta i formatori sui temi dei media, quindi delle nuove tecnologie, delle nuove opportunità anche della rete. È un momento importante perché cerchiamo in questo modo di raggiungere oltre 100 scuole dell'Abruzzo o 100 insegnanti che verranno formati per sviluppare dei progetti che poi avranno come protagonisti i ragazzi, gli studenti e quindi un bel segnale per questa regione. Troppe volte ci siamo trovati con una tecnologia che fa passi da gigante e non riusciamo culturalmente a reggere e a reggere lo stato di avanzamento. Questo progetto va esattamente in questa direzione e per questo davvero una particolare nota di merito va riconosciuta al Corecom che sta creando questa nuova sensibilità e una sensibilità che ci consente di varare progetti come questo che in fondo sono a tutela dei minori per consentire ai docenti di sensibilizzare gli stessi minori all'utilizzo dei nuovi media. A curare il progetto la professoressa Giselda Antonelli, docente dell'Università d'Annunzio. È un progetto unico in questo momento. Oggi il mondo della scuola ci richiede proprio questo, una professionalizzazione, tra virgolette, proprio su questi temi, l'utilizzo delle tecnologie per la quale la scuola sta facendo molto però in effetti in termini di aggiornamento riesce ancora a non decollare. E questo progetto si propone proprio questo, di raggiungere soprattutto i docenti ma attraverso di loro naturalmente gli studenti per iniziare e per continuare laddove ci sono già quei percorsi di media education, cioè di educazione ai media, con i media e per i media.